Buongiorno miei carissimi amici di Investire in Borsa Caccia di Dividendi, innanzitutto buon weekend a tutti, sono Lorenzo e come sempre vi porto col mio canale YouTube attraverso il mondo degli investimenti col mio particolare punto di vista, ovvero quello di investitore di lunghissimo periodo, ovvero con un orizzonte temporale lunghissimo, tecnica buy and hold, focalizzato più che altro a investimenti in titoli che mi garantiscono un flusso di dividendi crescenti nel tempo, ma ovviamente è sciocco tenere il paraocchi e guardare unicamente ad azioni che distribuiscono dividendi, ma l'importante, come si dice in poche parole, è guadagnare. E oggi infatti parliamo di un'azienda e di un'azione che ha guadagnato veramente tantissimo, ma che forse ha ancora tanto da dare. Parliamo di Paypal che è anche un'azione tra l'altro che non distribuisce dividendi. Quindi potrebbe sembrare un pochino strano per il mio canale analizzare un'azienda di questo tipo, ma come l'ho detto in precedenza, io non disdegnerei neanche investimento in Amazon o in Google se i prezzi dovessero essere interessanti, nonostante non distribuiscono dei dividendi. Quindi ovviamente non investiamo con i paraocchi, ma teniamo sempre la mente ben aperta. Allora, per analizzare questa azione sfrutto un post utilissimo di Gabriele Galletta, un profilo Instagram veramente interessantissimo, vi consiglio di andarlo a vedere, che dice mettereste i Paypal in portafoglio perché comprarla oppure perché venderla, analisi utilissima quindi di Gabriele Galletta e andiamola quindi a vedere subito, poi faremo alla fine anche una piccola analisi aggiuntiva, quindi seguitemi fino al termine, ma prima di partire come sempre vi chiedo un bel like a questo video, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale schiacciando sulla campanellina per attivare le notifiche. Allora, si parlava quindi di Paypal, 285 miliardi di dollari è il totale del volume dei pagamenti processati da Paypal complessivamente dato rilasciato durante gli ultimi dati trimestrali, risultato che ha portato l'azienda ad aumentare ancora di più i propri ricavi e a presentare conti migliori delle aspettative. Adesso ci si chiede se Paypal possa continuare ancora a stupire. Il 28 luglio prossimo Paypal rilascerà gli utili del secondo trimestre, gli analisti in media si attendono anche che Paypal porti le entrate del secondo trimestre ad un più 19% su anno, quindi rispetto all'anno scorso, a 6,26 miliardi di dollari, dei dati veramente eccezionali per questa azienda. Le previsioni generali per gli utili, per azione dell'azienda, è pari a 1,12 dollari rispetto a 1,07 del trimestre di un anno fa. La domanda è, Paypal batterà ancora le attese? Bella domanda, lo scopriremo chiaramente fra pochissimo, visto che il 28 escono gli utili. Paypal, come scrivono molti analisti, grazie alla crescita dei suoi users e della crescita dei servizi offerti, è riuscita ad andare beyond the bottom, ovvero sia a superare i soli servizi offerti da una semplice app e diventare qualcosa che assomiglia di più ad una banca con un'espansione ancora sicuramente elevata. Quindi attenzione perché Paypal si sta veramente espandendo a livello di servizi offerti. In questo contesto molti parlano di antification di Paypal, facendo riferimento alla trasformazione seguita anche dal colosso cinese di proprietà di Jack Ma Ant Group, che da semplice app per pagamenti digitali si è trasformata nel tempo in un colosso finanziario al pari delle banche popolari cinesi, tanto da mettere in guardia lo stesso regime cinese. Non avevamo parlato appunto di Ant, quotazione IPO che poi era andato un pochino a farsi friggere. Da qui le prospettive di Paypal sembrerebbero molto rosee, anche perché chiaramente la libertà economica che c'è negli Stati Uniti è molto diversa da quella che c'è in Cina. Altro catalizzatore importante per Paypal che potrebbe far crescere ancora di più le sue valutazioni è l'app Venmo, che permette di gestire pagamenti peer-to-peer e che si è trasformata in un importante catalizzatore di ricavi per Paypal, generando ben 51 miliardi di dollari dei 285 miliardi di dollari dell'azienda nel primo trimestre, quindi possiamo dire quasi, anzi oltre un sesto dei ricavi proprio generati da Venmo e le potenzialità di quest'app potrebbero essere elevatissime. Accanto a ciò le valutazioni di Paypal rimangono ancora molto elevati, con la compagnia che sta per raggiungere nuovamente i suoi massimi assoluti a 360 miliardi di capitalizzazione e un price to earning pari a 68 punti, decisamente molto elevati per il settore di riferimento, il famoso P fratto E. Ragazzi, 68 è effettivamente alto. Poi se confrontato magari con aziende non del settore tecnologico è veramente elevatissimo. Se vogliamo fare una comparazione molto stringente, Visa presenta oggi un price to earnings di 58 volte contro appunto il 68 di Paypal. Certo è che i margini di crescita di Paypal sono sicuramente maggiori di Visa, al netto dei suoi colli di bottiglia e dei suoi costi di produzione e questo spiegherebbe anche il diverso price to sales di Paypal rispetto a Visa stessa. Visa capitalizza circa 100 miliardi di dollari in più rispetto a Paypal, ma le due aziende possiamo dire che presentano ricavi molto similari attorno ai 22-21 miliardi di dollari. Se Paypal si trasformasse veramente il nuovo colosso finanziario e modificasse la sua struttura dei costi sulla base di quelli di Visa, allora sì che le sue valutazioni e il valore creato per i suoi azionisti potrebbero ancora crescere. Mi è venuto in mente tra l'altro di guardare l'andamento degli utili operazioni di Paypal e possiamo vedere come dal 2014 ci sia stata una crescita io direi esponenziale. Lì possiamo vedere in questi grafici. Possiamo vedere anche come il debito tuo equity sia estremamente sotto controllo, addirittura sotto quota 0,5. Quindi anche in questo caso sintomo di solidità dell'azienda. Ancora possiamo vedere come il prezzo dell'azione sia letteralmente esploso sicuramente e però come il rapporto price to earning sia attualmente a 68 punti. Però non è comunque superiore a quanto era prima della pandemia del 2020. Bisogna anche dire però che nel periodo 2017-2020, inizio 2020-fine 2019 possiamo dire il price to earning di Paypal aveva sempre viaggiato in una fascia tra i 50 e i 60. Quindi possiamo concludere secondo me che attualmente il prezzo insomma è abbastanza tirato e stima comunque una crescita molto molto importante di Paypal. Se effettivamente dovesse trasformarsi in qualcosa di più di una semplice app per pagamenti allora sì che le cose potrebbero cambiare ma chiaramente i prezzi molto probabilmente si adatterebbero molto prima. Quindi per forza di cose sul mercato non c'è mai nulla di semplice. Se uno vuole puntare su Paypal per forza di cose deve accettare di comprare un'azienda e un'azione probabilmente al momento sopravvalutata. Altrimenti si può attendere e vedere se magari ci saranno degli sconti sul mercato per entrare in questa azienda che comunque si sta rivelando veramente fantastica. Ditemi la vostra nei commenti. Voi ce l'avete di Paypal in portafoglio? Vi auguro proprio di sì perché vuol dire che avete guadagnato parecchio. Vi piace? Se non ce l'avete vorreste inserirla? Quale potrebbe essere il punto di ingresso giusto per inserirla in portafoglio? Ditemi purtroppo nei commenti, non dimenticate il like e se volete mi trovate anche sugli altri canali social. Un saluto a tutti da Lorenzo, a presto e ciao!